Ci troviamo qui nella centralissima via Roma e specificatamente il ponte sul fiume Tusciano. Siamo sui due ponti a destra e a sinistra che sono attraversamento pedonato. Ci è stato segnalato da diversi cittadini lo stato un po' di degranto, ci sono delle tegole di legno abbastanza rovinate. La gente chiede una manutenzione per poter evitare che possa cedere qualche tegola ed eventualmente avere dei problemi proprio fisici. Il sole splende qui in questa giornata bellissima e ripeto siamo sul lato sinistro tornando a Battipaglia e sul lato destro uscendo da Battipaglia. I due passaggi pedonali presentano entrambi questo problema. I due passaggi pedonali presentano a Battipaglia.